la razionia finalmente, finalmente, finalmente è una vittoria vera finalmente è una vittoria vera il libro, finalmente, finalmente, finalmente quanto ci voleva, quanto ci voleva quanto ci voleva a fare una vittoria del genere con finalmente carattere finalmente una vittoria di carattere una vittoria meritata di carattere finalmente 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 mamma il gioco allora riavvolgiamo un attimo il nastro perché se no non so manco a due partite ieri proprio gli stracci della partita ma ci hanno fatto capire niente il giorno dopo è ancora più bello ancora ti fa un po' quelle domande che dici come cazzo è possibile questa squadra come tutti gli altri anni certe partite prende che in due secondi diventa una squadra vera una squadra vera diventa proprio la Lazio quindi che pressa cattiva su tutti i palloni aggressiva e che sfrutta le occasioni perché la Lazio ieri fa due tre minuti contavati ai Saxon quando stavamo a perdere 1 a 0 stavamo al 60 stavamo a perdere 1 a 0 in casa col Frosinone un gran Frosinone oh occhio un gran Frosinone stagione del Frosinone fino adesso top top perché gioca bene c'è un allenatore che li fa giocare bene c'ha grandissimi giocatori di qualità giovani Caio Giorgio sulle quindi giocatori di qualità giovani e che giocano molto bene che li fa giocare molto bene di Francesco era ancora di più tosta e ancora di più non mi spiego come sia possibile che dopo 1 a 0 con una squadra appunto come il Frosinone che poi riesce anche più o meno comunque a gestire bene la partita no quindi continuò a pressare comunque una squadra che te presta l'uomo su uomo come si dice molto molto agile soprattutto no perché ieri veramente certe azioni davo stadio diciamo cioè proprio 4-5 passaggi in azione ad esempio 5 passaggi con se non mi sbaglio con Gelli Caio Giorgio allarga per sulle se non mi sbaglio proprio alla mezzo cioè con 5 passaggi una certa solita importa a primo tempo cioè ho detto guarda questi come giocano guarda questi come giocano primo tempo 0-0 dove una Lazio brutta una Lazio brutta una Lazio che con Tati si mangia due occasioni in generale che nel primo tempo voleva far molto molto meglio soprattutto vorrei essere molto più cattivo come ve lo è stato poi nel suo tempo e proprio in generale però la Lazio insomma ecco oltre poi ad un altro tiro dei Zaccani insomma poi non c'è stata tutta sta ste occasioni nitide insomma il Frosinone che ha provato a fare la partita però anche il Frosinone insomma dei tiri in porta pochi oltre al calcio di rigore insomma e la punizione di di Sule per resto niente di niente insomma di nitido ecco però un Frosinone sempre pericoloso perché poi occasione del calcio di rigore occasione del calcio di rigore sta palla a mezzo Guendunzi in mezzo a mezzo a Ocoglio e Romagnoli e a prendere mano a prendere mano un rigore che si può dare un rigore che non si può dare insomma vabbè tanto ieri voi l'arbiro di ieri ragazzi insomma era una certa c'è stata una rimessa laterale per noi con i Saxon che ha provato ad andassene su Romagnoli Romagnoli la tocca nettamente lui per ultimo però l'arbiro decide di dare rimessa al Frosinone detto calcio di rigore segna su lei sessantesimo proprio niente proprio niente sessantesimo proprio regà stavo proprio stavo a pezzi stavo a pezzi perché dicevo io e lo ammetto non la vinci finita la partita ho detto è finita la partita stavo con i padri ho detto vabbè è finita la partita che boffa è finita la partita infatti ci stavamo tanti anni ci dicevo Dugo quando li fai? gli dicevo Dugo per forza Dugo per forza perché mi accontento manco del pareggio infatti Dugo quando li fai? puntualmente puntualmente arriva Ergo de Castellanos io perché voglio che mi accastello quindi che stavo picciato Castellanos arriva Ergo Der Tati sta pala dei Saxen in mezzo che rientra Castellanos arriva che arriva Ergo Polneva detesta così e la mette all'incrocio a scendere quando fa sto gol tutti esultavano tutti a pensare pure insomma dove stavamo lì noi cioè fa un gol del genere che infatti hanno ricordato non tanti dopo a fine partita Ergo Der Bobo viene con ancora Mallorca a Birmingham Coppa delle Coppe ma il primo tempo che sta venendo due delle occasioni assurde cioè no assurde però insomma dove poi fa molto meglio perché se fai sto gol poi fa molto molto di più soprattutto una palla che gli arriva stoppa di petto invece di andare di testa la stoppa di petto in aria da solo da solo gli arriva la palla la stoppa di petto cioè quindi non so che volava forse la rovesciana beh però fa sto gol pareggia la partita e l'atmosfera mamma mia l'atmosfera macello macello totale macello totale macello totale macello totale manca il tempo dei sedessi oh raga manca il tempo dei sedessi manca il tempo dei sedessi e arriva l'occasione con palla sempre per Castellano stesso errore di Caritano del Frosinone che da sta palla indietro brutta bruttissima in velocità arriva gliela appoggia i saxeni i saxeni con il mancino all'angolino preciso 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 2 a 1 esploso lo stadio esploso esploso completamente io senza voce senza voce se sente senza voce ecco senza voce perché raga c'è Ducon in due secondi e quello che avevamo detto dicevo quando devi fare Ducon a Frosinone detto ho fatto hanno fatto Ducon i saxeni sotto la nord è spettacolare spettacolare bellissimo stupendo proprio perché era importantissimo raga era importantissimo perché rivedo era contro un gran Frosinone Frosinone in forma sanno e ma ecco 1 a 0 pure che facevi 1 a 1 erano punti buttati perché la situazione andava ancora più a complicarsi perché Frosinone se vinceva se non mi sbaglio praticamente ci andava ad agguantare perché noi stavamo a 24 insomma Frosinone a 19 quindi insomma stavamo lì Frosinone quattordicesimo quindi comunque no quattordicesimo vabbè tredicesimo insomma stava lì no dunque parte destra della classifica e tu a 1 esploso lo stadio esploso lo stadio ed esploso ancor di più col god de patrick poi con carcio d'angolo i carci d'angolo di Zaccagni i più pericolosi in assoluto famo ribatte sempre a Zaccagni Mauri perché Luis Alberto queste cose sennò cercava sempre il god della vita invece i carci d'angolo di Zaccagni fatti bene precisi in mezzo pericolosi infatti hai una certa ho detto ora segna guendo ora segna guendo segna guendo che arriva il pallone e PAM! GO! invece god de patrick god de patrick non ci stavo a credere cioè god de patrick sul secondo pallone che si fa trovare pronto e la mette dentro il gioco bellissimo spettacolare è proprio Castellanos Isaacs Patrick meraviglioso pandemonio totale pandemonio totale e tre punti pesanti tre punti pesanti perché il Napoli pareggia la Roma deve giocare la Juve l'Atlanta sa giocare con Lecce e il Bologna deve giocare Cudinese in trasferta quindi potenzialmente ti sei rimesso in riga cioè veramente una cosa stupenda pensate i punti persi se adesso li avevamo presi stavamo da soli terzi quarti cioè stare a capire com'era Lazio stare a capire com'era perché questi ecco come l'Atlanta due secondi due secondi due secondi due secondi è rimontata la partita se ti metti un attimo che giochi a pallone la Lazio è pericolosissima è pericolosissima ragazzi vi giuro due secondi due secondi Frosinone non ci ha capito niente 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 perché poi due a uno comunque si andava proprio un catterrate se Frosinone non ha più fatto niente zero zero totale quindi poi i fagli hanno certo il quarto e il quinto una partita che era importantissimo prendi i tre punti vince i tre punti era importantissimo per me l'hanno fatto proprio in una maniera pericolosa sì perché stai a perde però poi una reazione che mamma una reazione che quando li vedo giocare così giocassero tutti i tempi così ho detto la Lazio sarebbe terza 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 quarta che noi le partite quando le andiamo a perdere le perdemo in un in un niente o se lo fanno noi o se li roviniamo noi o niente perché adesso fanno noi le altre cose guardate la salernitana guardate il lecce e il genoa non giochi non giochi e le altre delle mani giustamente ma è colpa nostra il verona il verona pure stiamo a vince le abbiamo fatti parigiare le abbiamo fatti parigiare il verona capite quello che ti voglio dire com'è sta storia c'è come so questi com'è la Lazio non è normale una squadra una squadra fuori dai test fuori dai test raga la prossima c'è l'Udinese anno nuovo anzi colgo l'occasione per farvi auguri a tutti quanti che buon anno e soprattutto raga spero bene il palazzo spero bene chiaramente nuovo anno devo ripartire ancora meglio ancora meglio trasferta ad Udine ma devo partire ancora meglio quindi buon anno a tutti ultimo video del 2023 è nulla raga sempre e comunque forza Lazio ci vediamo alla prossima e bello